Chi siamo? Rischia di diventare difficile riuscire a definire la propria identità culturale nell'area della globalizzazione e dell'incontro incessante tra le differenti realtà che compongono il mondo. Così gli Atenei Romani, aderando all'iniziativa di Eurolinguistica Sud, si siadono nuovamente allo stesso tavolo, quello del convegno internazionale Lingua, Cultura e Identità, elementi che caratterizzano la vita di ogni essere umano. Un convegno internazionale dedicato all'identità culturale che vede la collaborazione di tutti e tre gli Atenei Romani. Qual è il significato di queste eventi? È la migliore risposta a chi vede l'identità come una chiusura e una separazione. L'identità è la base per poter avere gli incontri e i confronti. Se uno è in qualche modo sicuro di sé, è in grado anche di parlare con altri sé. I tre fattori sono estremamente importanti perché la lingua è la storia di un popolo, la cultura è ciò che la storia ha portato a questo popolo, ciò come si è sviluppato e l'identità siamo sempre all'interno della storia appunto perché ognuno si forma, forma la propria personalità secondo una cultura che poi diventa una lingua e poi un'identità. Le relazioni intercorrenti tra lingua, cultura ed identità possono essere colte in ogni ambito della vita umana, perciò ogni università ha scelto l'aspetto su cui concentrare la sua giornata d'analisi. L'apertura, svoltasi presso la facoltà di lettere di Tor Vergata, è stata dedicata all'alimentazione, prendendo ispirazione da un proverbio di origine tedesca che dice «Si è ciò che si mangia». Oggi si parlerà in particolar modo di alimentazione, per la serie dimmi ciò che mangio e ti dirò chi sei. Beh sì, del resto il sottotitolo della giornata di oggi è «Un uomo è quello che mangia». I tre vertici di cui parlavate poco fa rappresentano appunto un triangolo in cui non si può togliere uno degli elementi senza far crollare il triangolo stesso, perciò l'alimentazione in questo ha un valore fondante. Oggi siamo invasi da prodotti derivanti da altri paesi, in primis ci sono stati gli hamburger americani fino ai kebab di origine araba. In che modo variano la nostra identità? Beh, non è detto che riescano a variare, l'importante è che ci sia un confronto e che ci sia poi un'assimilazione, ma non ci può essere assimilazione di nessun tipo in nessun ambito se prima non ci si confronta con l'alterità, con il diverso e quindi questo è il senso che ci ha spinto ad animare questa iniziativa, a far vedere come, come sempre nel corso della storia, dal contatto con la diversità si sviluppi un arricchimento anche delle culture di partenza. Nel mondo globale sono cadute tutte le frontiere, si può scegliere di studiare in Australia o lavorare a Londra, vedere la tv araba e trovarsi sullo stesso autobus con un nigeriano o un tedesco. Tuttavia, spesso l'incontro diviene scontro e assistiamo a veri e propri episodi di rigetto del diverso, provenienti dal basso ma anche dalle classi governanti, sempre più restie all'apertura delle frontiere. La globalizzazione fa sì che siamo tutti i giorni a contatto con gente di altri posti, però spesso c'è paura e siamo di fronte ad atteggiamenti xenofobi, perché c'è il pericolo che l'incontro possa farci perdere la nostra identità culturale? No, questo assolutamente. Noi siamo il prodotto di varie identità che sono confluite in Italia, per esempio. Noi ci sono la realtà francese, c'era la realtà spagnola, c'era la realtà austriaca. Noi siamo un prodotto e noi ci siamo sicuramente arricchiti di questo. Noi siamo un prodotto.